guerre da ridere dopo la chiusura dei conventi su cui s'è fatto tanto chiazzo siamo entrati in un'epoca di guerra dichiarata tra autorità civile e potere ecclesiastico in ogni regione si assiste adesso al combattimento eroico tra prefetto e vescovo e tutta la francia assiste stupita allo strano duello fra un ministro e un cardinale ma i conflitti tra i due poteri che fino ad ora si dividevano il paese prendono speciale interesse quando capitano tra un semplice sindaco e un umile parroco tra un frate e un maestro di scuola assistiamo allora a lotte esilaranti col dovuto rispetto della fede che in questo caso non c'entra su questo stesso giornale veniva citato giorni fa un articolo di henry rochefort riguardante la nuova legge contro la stampa immorale legge che pone nuovi fulmini nelle mani di tutti i pinard e betulot del futuro il pungente scrittore ricorda questo proposito che molte opere d'arte sono state mutilate dal cieco zelo di preti dal pudore feroce dedico a lui questa storia che è vera in ogni sua parte ma che è già vecchia un villaggio normanno aveva un'antichissima chiesa classificata fra i monumenti storici solamente il sovraintendente alle belle arti poteva autorizzarne cambiamenti o riparazioni non c'è molto rispetto per quei monumenti storici che sono anche monumenti religiosi per esempio la chiesa romanica di etretà è stata oggi addornata di affreschi e vetrate tali da far urlare ogni artista mentre ripugnanti ornamenti nello stile caro ai gesuiti hanno rovinato per sempre moltissimi edifici di notevole importanza la chiesina a cui mi riferisco aveva un portale scolpito uno di quei portali ad arco tondo sui quali la fantasia libera di artisti ingenui ha scolpito scene della bibbia nella loro originaria semplicità e nudità nel mezzo un Adamo la figura più importante offriva ad Eva i suoi omaggi il padre di tutti noi era raffigurato nel suo costume originario Eva sottomessa come dovrebbe essere ogni sposa riceveva languidamente le grazie del suo signore come un duplice fiume da loro uscivano le generazioni umane gli uomini da Adamo le donne da Eva c'era nel villaggio un parroco che era una degna persona ma di un pudore che sanguinava tutte le volte che era costretto a passare davanti a quella raffigurazione troppo naturalistica da principio ferito nelle più intime fibre soffrì in silenzio che cosa mai avrebbe potuto farci una mattina finita la messa due forestieri due viaggiatori si fermarono davanti al portale della chiesa e si misero a ridere appena lo videro uscire uno di loro gli domandò quella è la vostra insegna signor parroco indicava i nostri progenitori eternamente immobili nel loro libero accoppiamento il sacerdote fuggì via umiliato sino alle lacrime ferito nel profondo e ammettendo dentro di sé che davvero la sua chiesa portava sulla fronte il simbolo di una vergogna come una casa di tolleranza andò a trovare il sindaco che presiedeva il consiglio comunale era un libero pensatore vi lascio immaginare sia le argomentazioni del sacerdote sia le risposte di quel cittadino laico il reverendo turbato supplicava l'autorità civile allo scopo di togliere almeno qualcosa alla potente figura del nostro padre Adamo appena appena un semplice ritocchino alla turca non avrebbe guastato nulla anzi il sovraintendente ai monumenti non se ne sarebbe neanche accorto il sindaco non si piegò e mandò via il ministro di Dio tacciandolo di retrogrado la domenica seguente i contadini del posto si avvidero con stupore che Adamo aveva dei bracchettoni sì, bracchettoni di stoffa accuratamente adattati al corpo da un filo di ceraracca in tal modo l'opera d'arte e il primo dei maschi erano rimasti intatti e il pudore era salvo ma l'autorità civile balzò su inferocita e ingiunse alla guardia campestre di togliere i bracchettoni al nostro antenato l'ordine venne eseguito tra il gran divertimento dei parrocchiani il parroco scrisse al vescovo il vescovo al sovraintendente alle belle arti quest'ultimo non cedette ma arrivò il momento di un ciclo di prediche in onore di un santo guaritore la cui statua in fama di miracoli era esposta nel coro della chiesa questa volta al parroco non andava giù l'idea che i fedeli accorsi da ogni parte della regione sarebbero sfilati in processione proprio sotto a quello sfacciato impudico nostro avo di pietra si consumava dal dispiacere invocava dal cielo un'ispirazione il cielo lo illuminò ma male una notte un contadino che abitava vicino alla chiesa fu destato da strani rumori si mise in ascolto erano colpi molto forti che risuonavano tutto intorno i cani abbaiavano l'uomo si alzò prese il fucile e uscì davanti alla chiesa si stava agitando uno strano gruppo di persone alla luce di una lanterna sembrava che tentassero di scalare la facciata o meglio di infrangere la porta che era l'oggetto contro cui si accanivano i colpi senza dubbio per rubare la cassetta delle elemosine e gli arredi dell'altare spaventato ma sospettoso il contadino corse dal sindaco questi avvertì tutti gli assessori ed essi armatisi chiamarono i pompieri i servi si unirono ai padroni e la truppa irta di falci di forche e di armi da fuoco avanzò cautamente seguendo una strategia di avvicinamento rotatorio i ladri erano ancora sul posto senza dubbio la grande porta stava resistendo con mille precauzioni i difensori dell'ordine pubblico avanzavano al riparo della chiesa all'improvviso il sindaco che era l'ultimo della fila urlò con voce furente avanti prendeteli i pompieri mossero all'attacco e videro sopra due seggiole il parroco e la sua perpetua che stavano staccando qualcosa dal corpo di Adamo la serva in sott'abito reggeva con tutte e due le mani la lanterna mentre il prete batteva con tutta forza sulla dura pietra che cedette proprio in quel preciso momento in nome della legge vi dichiaro in arresto proclamò il sindaco e fece trascinare via il reverendo disperato e la perpetua in lacrime mentre la guardia campestre raccoglieva quale corpo del reato il frammento perduto dal generatore dell'umanità oltre alla lanterna e il martello tra il vescovo e il conciliante prefetto si svolsero in seguito lunghi colloqui allo scopo di soffocare il grave scandalo altra guerra molti giornali hanno da poco portato alla nostra attenzione la lettera indignata ad un bravo parroco o al maestro del suo paese per domandargli di dichiarare se fosse vero oppure no che aveva parlato della storia sacra come d'una fandonia i giornali clericali si sono offesi quelli liberali hanno colto l'occasione per sdottoreggiare il problema mi pare delicato e di difficile soluzione secondo la nuova legge pare vietato ai maestri elementari l'insegnamento della religione e allora chi dovrà insegnarla? nessuno e quindi i bambini non la conosceranno mai ma se il maestro è autorizzato a raccontare le avventure che sono nell'antologia di aneddoti meravigliosi chiamata antico testamento si può pretendere che sostenga essere articoli di fede la creazione del mondo in sei giorni l'arresto del sole comandato da Giosuè l'abbattimento a suon di musica delle mura di Gerico la passeggiata di Giona nel misterioso ventre della balena eccetera quando il maestro insegnerà ai futuri lettori a non credere nelle bacchettine di nocciolo degli stregoni racconterà loro il miracolo alla Vespasiano di Mosè con la rivelazione di una sorgente d'acqua che secondo la Bibbia non sembra per niente straordinaria se deve sostenere che la signora Lot fu mutata in statua di sale come impedirgli di affermare a chiare lettere la completa autenticità delle metamorfosi che hanno ispirato Ovidio se egli colloca la storia sacra allo stesso livello della mitologia se definisce quella la narrazione delle favole sacre del cristianesimo e questa la narrazione delle favole sacre del paganesimo chi mai potrà farne oggetto di biasimo o di rimprovero io vi affermo in verità che in questo momento in ogni regione della Francia stanno nascendo gravissimi conflitti e come ci piacerebbe ascoltare le argomentazioni che portano ai propri seguaci o ai propri rivali nell'ora serotina del giardino scolastico o sotto il pergolato del presbiterio questi implacabili avversari